Musica Ma chi è quello lì col barbone? Ma cos'è sta roba? Ma chi è questo? Sono tutti i barbuti che ha un'ottima girls Sì E' qualcosa Ma è buona Ma qui è Questa è bene se hai Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti